Secondo me la cosa più bella che potete fare è mettere questa targa in questa bellissima piazza di loro la seconda detta di tutti, c'è l'estate di decennio, la spera più forte non ci potrebbero stare in Italia ma credo anche in Europa e non lo dico io ma lo dico veramente, credo tutto il mondo a prescindere di questo l'avete messa proprio davanti al nostro, in belle mattine, in questa piazza dove tutte le mattine i nostri ragazzini e di questo io adesso ogni giorno vi farò loro dicendo guardate che cos'era, che cosa c'era l'orgore di appartenere a questo tipo di società che è sempre una cosa unica chi arriva magari non se ne rende conto ma poi quando sono in città parlo anche dei giovani che arrivano e cominciano a capire che cos'è quindi secondo me è emblematico e veramente simpatico messa qui, io ti ringrazio il nome di Dottor Fittà